Bellissimo, questo non c'entra per appenderlo, bello proprio anche il mood della chiusura, bellissimo, blu e oro e verdone oro, 39, sono eccezionali amiche, vi dico proprio di non perderli, guardate che meraviglia, è scontatissimo, costava, adesso Ciro vi mette fuori il prezzo perché l'avevamo ovviamente già fatto vedere, il pantalone ha le tasche, come potete vedere ha tutta questa riga, gessata, argento, meravigliosa, manica a tre quarti, manica corta un po' così, 99 alla prima telefonata va via, a 59 Euro, meglio così, così so che le mie amiche sicuramente oggi sono rimaste contente. Vieni, vieni, eccoci qua, tutto, no, quell'ini no, amiche vi faccio vedere gli ultimi due, se ve li volete portare via nel bianco, questi due, 29, 1, 40 Euro 2, se vi piacciono avete ancora la possibilità di confermare e poi ritiro la rella, bellissimi, bianco pizzato e bianco con le paillette, poi avete ancora questa 19 e resto amiche direi che per oggi sui caftani abbiamo dato, è vero o no? Abbiamo dato, qualche minuto e vado avanti, eccolo qua, eccolo qua Francia, è questo qui, modello dolce gabbane, tutto tulle, sotto è tutto foderato al corpettino e dietro è tutto così, stringhettato tipo proprio corpetto, il Ciro pensi di mettere un codice oltre a dire le tue? Allora il codice te lo do, è il 13138, chi l'ha preso l'ha preso, chi è il regista? Mio zio? Ma con chi? L'hai preso? Ciro? Ciro? Aspetta Franci, aspetta, guardalo, l'hai preso Ciro? Allora Marco, guarda eh, l'ho messo, gli ho detto di mettere il codice, mi ha detto l'ho preso io, gli sto chiedendo ma l'hai preso? Muto, bellissimo, completo animalier, pantalone con tasche e casacca, è unico, 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 saten, favoloso, molto elegante da sera, da giorno, parliamo di una maglia molto fine, quindi abbiamo messo una fantasia maculata, quindi una fantasia importante, ma su un completo tradizionale, senza scollature, con una manichina corta, la prima telefonata, 55 Euro e lo portate a casa, 55 Euro, uno solamente, veste fino alla taglia 48,50, è unico amiche, vediamo chi lo porta via, 55 Euro, cambiamo il prezzo, fantastico, 10, 9, 8, 7, 6 amiche, è bellissimo, stile dolce gabbana, un amore, modello dolce gabbana, è bellissimo, molto molto elegante, a corpetto, la regolate ovviamente le spalline, io le ho regolate male, ma adesso le aggiusto, ve lo lascio amiche a 90 Euro, unico, questo non posso fare più sconto, se no vi dico la verità, lo tengo, vedete, ha tutto il corpetto qui, che andate poi a regolare, bellissimo, 90 Euro per voi, modello dolce e gabbana, 30 Euro, via, favoloso, 59 Euro, stile Fendi, bellissimo, una filatura meravigliosa, bottone nella parte sotto, in tinta, tasca animalier, eccezionale, ultima possibilità, li avete presi tutti questi qui, domani tante novità per voi, via, grazie, amiche domani tante novità per voi, mi raccomando, seguiteci. Allora, il dicevo, maglioncino ultimo, a lupetto, stile animalier, panna con manica tre quarti, scampanata, è un unico pezzo, non mi ricordo il codice ma adesso ve lo dico, 8025 Ciro, è l'ultimo, bellissimo, è unico, unica possibilità, con la rouge, tutto disegno chevron, il pantalone e veste finale a taglia 48,50, elasticizzato 50 Euro, unica possibilità, unica possibilità, 50 Euro per voi, bellissimo, zebrato, scolatura l'americana via, 29, 2,40, siate veloci amiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.